Oggi è una giornata importante per l'Italia perché si parlerà di creatività. Il MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione insieme a Radio Rai 3, organizzano una giornata di servizi e di collegamenti da tutta l'Italia per parlare per l'appunto ai giovani della creatività. A Turino hanno scelto Opere, che è un festival di design indipendente arrivato alla settima edizione e quest'anno si terrà a Palazzo Cisterna. È una fiera, una vera e propria piattaforma di incrocio di attori economici e culturali che per tre giorni discutono di temi appunto di creatività in misto a cultura e quest'anno appunto lo faranno a Palazzo Cisterna in collaborazione con la città metropolitana. Oggi agli studenti che sono presenti qui a Torino, sono due classi, racconteremo come è nato questo progetto, come si è sviluppato e quali gambe ha per il futuro. Il tema di quest'anno è Be Brave, cioè essere coraggiosi, quindi il futuro che i progettisti, scusate, il coraggio che i progettisti mettono nel progettare il futuro.